Giovedì 16 marzo 2017 presso l'auditorium dell'istituto comprensivo Iapigia Verga 1 si è tenuta all'inaugurazione delle gare di robotica RoboCup Junior 2017 aperta con uno spettacolo danzante del corpo di ballo della Dance Academy a presiedere l'evento la dirigente dottoressa Patrizia Rossini e con lei diversi graditi ospiti l'assessore alle politiche giovanili Paola Romano, il dottor Mario Trifiletti vice direttore dell'ufficio scolostico regionale e la ballerina e coreografa della compagnia Res Extensa Elisa Barucchiere nonché una conference call con il professore Alessandro Bogliolo vi inauguriamo questa prima edizione delle gare territoriali RoboCup Junior per la Puglia con un momento ludico sulla creatività, sulla capacità di affrontare, esaltare i problemi anche con il lavoro di squadra se non c'è da riportare a Bari un incontro ma a nerviscio anche quell'interesse con la voglia di mettersi in gioco proprio quest'idea, questa nostra utopia in quanto esseri umani di perfezione cioè lì il Robo fa non si lamenta senza avere idea di quali siano le cose fattibili e le cose non fattibili e senza avere un linguaggio per esprimere ciò che si sta pensando anche a se stessi e da qui è molto difficile elaborare idee e essere consci delle idee che si sono elaborate le gare si terranno il 17 marzo sempre presso la sede dell'istituto e per tutta la giornata vincerà il detto l'importante non è vincere ma imparare